Musica Dopo gara questo big match finisce nelle mani della Virtus Ladina Scalo, una capolista che comunque nel secondo tempo ha un po' sofferto contro di voi. Sì, è stata una partita equilibrata, è decisa alla fine dagli episodi, dal tiro libero e da due nostri errori di posizionamento, però questo è il calcio a cinque, non ti puoi permettere di sbagliare una palla che prendi i gol, in partite del genere dove risultate in bilico questo fa la differenza, però onore a tutte e due le squadre. Non si può dire che certo per voi l'ultima parola è stata posta in questo big match, siamo soltanto alla dodicesima giornata, vi siete ben comportati, avete avuto anche l'occasione poi addirittura per trovare il gol, non ci siete riusciti? Poi forse la deviazione, quella del vantaggio loro vi ha un po' forze e un po' smorzato? Sì, per noi questa non è una sconfitta sul campo, però la prestazione ha detto che comunque ci siamo giocati la partita a viso aperto, alla pari contro la capolista e per noi essere arrivati qui alla dodicesima giornata a giocarci questa partita con questo minimo distacco è già una vittoria per noi. Il campionato è lungo, noi continueremo queste prestazioni e sicuramente ne usciremo alla grande e ci lotteremo le posizioni di vertice fino alla fine. Allora, non possiamo parlare quest'oggi di un match winner, ma sicuramente la scossa alla squadra, la tua squadra, la squadra capolista di questo girone l'ha data Damiano Corbi prima dell'intervallo con quel tiro libero. Sì, è stata un po' una scossa, però io come dico sempre a tutte le interviste è il gruppo che fa la forza, quindi la forza me l'hanno data i miei compagni e quel tiro libero è stato grazie a loro se l'ho segnato perché mi hanno dato la carica per tirarlo bene. Ecco Corbi, abbiamo visto un po' di contrattura rispetto alla giocatore Jannella, forse il giocatore più rappresentante di loro, loro si aspettavano essere l'uomo più pericoloso, chiuso le possibilità per lui di andare a rete, ti sei dovuto in un certo senso un po' caricare anche delle sue responsabilità a questo punto? Sì, perché come si sa questo campionato è lunghissimo, quindi di soste ce ne sono poche, noi abbiamo recuperato con il Ponza domenica, quindi non ci siamo proprio fermati. Mariano ha avuto un po' un problemino alla coscia e quindi si è fermato per un po', non essendo stato in buona condizione atletica ho dovuto sostituirlo nel suo ruolo, però posso dire che lui ha interpretato molto bene il suo ruolo anche stando un po' contratto lui. Ecco, adesso gli impegni si susseguiranno, nel corso di questa settimana ci sarà di nuovo due volte la possibilità di scendere in campo, una stagione che non lascia proprio riposo. Sì, questo campionato infatti è lunghissimo e nel lungo andare qualcuno potrebbe risentirne come pure noi ne abbiamo risentito, io sono stato una settimana ferma proprio per problema a una contrattura alla coscia, lo stesso Mariano ed altri miei compagni, pure le altre squadre sono, credo in questa condizione, però non ce la possiamo prendere con nessuno, la federazione ha deciso così e quindi ce la metteremo tutta anche contro gli infortuni. Bene, grazie a Damiano Corbi, il pivot della formazione vincitrice di questo confronto, noi lo salutiamo ricordando comunque che le riprese esterne sono state affidate a Matteo Viglianti per il commento di Daniele Porcelli. Grazie a tutti.